E adesso invece apriamo la pagina di sport per parlare del ritiro del Napoli di Spalletti tra Rivi Sondoli e Castel di Sangro. Nel primo pomeriggio di oggi c'è stato allo stadio Patini di Castel di Sangro il primo allenamento e allora ci riferisce tutto Enrico Giancarli. Ciao Anna, buonasera, un saluto a te e un saluto a tutti gli amici in diretta al TG8. Mentre la squadra del Napoli sta lasciando lo stadio Patini di Castel di Sangro, da poco è finito l'allenamento, il primo allenamento del ritiro di Castel di Sangro. La squadra alloggerà a Rivi Sondoli, come abbiamo detto, ne parliamo con il sindaco Angelo Caruso. Buonasera sindaco, insomma come la giudica questa seconda esperienza, secondo anno? Ma è un'esperienza che in qualche modo replica quella dello scorso anno per quelle che sono le misure precauzionali perché purtroppo è un po' l'elemento che caratterizza l'evento in corso. È sicuramente un'iniziativa straordinaria, la visibilità, le attenzioni soprattutto mediatiche sono elevatissime, soprattutto perché in questa occasione tornano i campioni d'Europa presenti nel club Napoli, quindi è stata quella attesa che in qualche modo ha gratificato gli accorsi in questa giornata di primo ritiro. Non vuole essere una polemica sindaco Caruso, ma un dato di fatto oggettivo, rispetto all'anno scorso vedo meno entusiasmo e meno tifosi. Qualche numero in meno si è registrato oggi, inutile negarlo, ma non lo so se è legato al fatto che era un primo ritiro di una mezza giornata, probabilmente anche ridotta nell'orario. Certamente ci aspettiamo che dai prossimi giorni già da domani le condizioni cambino, ma soprattutto poi in occasione delle amichevoli la situazione si declini in maniera diversa. risulta ovviamente anche dalle prenotazioni che la presenza più massiccia ci sarà da domani fino al 15. Le volevo chiedere quanto è contento lei come sindaco di questa formula, perché il Napoli è stato fino a qualche giorno fa a Di Maro, sede storica del ritiro, seconda parte, con tutti i giocatori effettivi qui a Casteldisangro. Le due località si trascinano un po' la volontà e la voglia di avere l'esclusiva? Sì, ho letto su una pagina di un giornale, non ricordo quale, che c'era questa pressione da parte del Trentino di avere l'esclusiva del ritiro e non condividere con l'Abruzzo la preparazione precampionato. È un'esigenza che comprendo, perché ovviamente il flusso turistico, comunque l'attenzione si declina più sul secondo, perché beneficia ovviamente della compagina al completo, beneficia ovviamente degli acquisti, e quindi quella squadra che in qualche modo tutti vogliono vedere, perché è quella che giocherà il campionato. So che stanno facendo pressioni su questo genere di condizioni, non so come finirà. Per quello che ci riguarda abbiamo un contratto di sei anni, questo è appena il secondo anno. Certamente mi rendo conto che rendere compatibili due esperienze di questo genere non è semplice, però attendiamo gli sviluppi che sicuramente non dipendono da noi, dipenderanno dalle regioni e da chi in qualche modo poi saprà dirimere questa forza controversia. Me lo faccia capire con un sorriso per chiudere, non mi sembra tanto contento di questa seconda edizione. No, insomma gravano delle preoccupazioni, però io credo che le cose siano gestibili, perché sono tutte quelle cose che non avendo un dato storico, non avendo un'esperienza a mondo, c'è un precedente, perché il precedente dell'anno scorso si è celebrato tra fine agosto e settembre, quindi non avevamo nemmeno un dato di riferimento precedente. Credo che se questi sono un po' i presupposti, credo che il ritiro sia gestibile. Certamente ci ha preoccupato tanto la collocazione nel periodo di ferragosto di questo ritiro e la sensazione della preoccupazione si respirava un po' in maniera più larga anche rispetto alla comunità dell'Alto Sangro.